Interventi per lo sviluppo della sanità e del territorio delle aree montane e pistoiesi a partire da San Marcello Piteglio. Firmati in regione alla presenza dell'assessore alla presidenza Vittorio Pugli, due importanti protocolli, uno poi era il potenziamento dell'ospedale di San Marcello, l'altro legato alla viabilità. Tra le novità per l'ospedale Lorenzo Pacini, il potenziamento delle attività specialistiche, ambulatoriali, chirurgiche e di emergenza-urgenza con sei medici in più. Sarà anche rafforzata l'assistenza domiciliare. Il risultato di un periodo anche impegnativo dove le amministrazioni locali, l'azienda ma anche la presidenza insieme alle associazioni hanno un po' condiviso come rendere stabile e duraturo un presidio ospedaliero di San Marcello in una zona appunto montana con popolazione dispersa ma naturalmente importante da assistere. Tra le finalità dell'accordo per migliorare servizi e viabilità, la rigenerazione del centro di San Marcello, la riqualificazione di Villa Santa Caterina, del villone e la creazione di un bypass viario. La frazione capoluogo è una frazione che reclama di vivere in qualche maniera ma vive addosso a sé il grosso limite di una viabilità che la divide esattamente nel centro e quindi c'è un bisogno importante di deviare sicuramente il traffico pesante ma in occasioni particolari anche di rendere lo spazio della frazione capoluogo libero per attività che manifestano di volersi sviluppare liberamente. Le infrastrutture viarie per raggiungere la montagna sono fondamentali e non è pensabile che se ne facciano carico le comunità locali, i comuni di montagna, quindi servono risorse ma serve soprattutto di credere alla montagna. È una zona che vive un momento florido, crescono le presenze, crescono gli arrivi, crescono le attività, crescono i tantissimi giovani che fanno imprese in montagna e che scommettono su se stessi e che scommettono sul proprio territorio. Anche le istituzioni devono fare la loro parte. Il protocollo nasce all'interno del percorso per il riconoscimento di aree particolarmente disagiate e un pacchetto di interventi tra sanità e viabilità per andare incontro ai bisogni di un territorio montano.